Le opposizioni di centrodestra al comune di Minturno si rivolgeranno al prefetto di Latina e all'autorità nazionale anticorruzione per chiedere chiarimenti sulla legittimità del decreto con cui il sindaco Gerardo Stefonelli ha nominato quale neosegretaria comunale la dottoressa Franca Sparagna. Il pomo della discordia rappresentato dal grado di parentela e infatti cugina di primo grato con il neovicesindaco e assessore al bilancio ambiente e programmazione strategica Daniele Sparagna. L'avvocatessa Sparagna, 49 anni, proveniente dal comune di Monte San Biagio ma con esperienze in molti comuni delle province di Latina e Frassinone è stata scelta tra le otto candidature presentate perché è in possesso di riconosciute competenze tecnico-giuridiche e gestionali. Ma è subito insorto l'ex candidato al sindaco Vincenzo Fedele che discutendo l'opportunità di nominare una cugina diretta del vicesindaco sostiene che la scelta non garantisce equità e trasparenza nei confronti di tutti e soprattutto nei confronti delle opposizioni. Se per il sindaco Stefanelli la scelta della neosecretaria non rappresenta alcun motivo di incompatibilità con quanto prevede il testo unico sugli enti locali, l'assessore al bilancio e all'ambiente ha fatto ricorso all'ironia. Ma quale conflitto di interessi? La dottoressa Sparagna è mia cugina. Non l'ho neppure invitata al mio matrimonio.